Mamma mia il prossimo anno rischia di essere un campionato fantastico Mi raccomando guardate tutto il video ragazzi sia laziali, sia juventini, sia napoletani, sia milanisti, interisti Perché ragazzi oggi parlerò, è già un po' che non lo faccio, di calcio mercato a 360 gradi Iniziamo subito, dico qualcosina sulla Lazio perché è qualche giorno che non faccio video calcio mercato della Lazio E so che li volete, e so che li volete Allora, questione a Cerbi A Cerbi all'80% si farà, perché lui ha disertato le visite mediche al Sassuolo Vuole venire alla Lazio, assolutamente, è l'occasione della sua vita a 30 anni Deve venire alla Lazio, vuole venire, è ormai l'ultima occasione di andare in una grande squadra della sua vita E poi c'è già l'accordo con la Lazio, un milione e mezzo per 4-5 anni E la Lazio è arrivata a offrire 12 milioni, che per comunque un giocatore di 30 anni, secondo me è una cifra buona E il Sassuolo ne chiede sempre almeno due in più, secondo me si chiuderà, spero, a breve perché ragazzi non se ne può più Poi è rispuntato Fabio Borini in attacco perché Inzaghi apprezza la sua utilità Si potrebbe prendere anche con una cifra abbastanza modessa Si parla di 10 milioni, però secondo me si possono trattare assolutamente La mia opinione, a Cervi lo voglio, serve un difensore assolutamente, prima del ritiro di Auronzo serve un difensore Borini non mi entusiasmerebbe, però comunque un giocatore che farebbe comodo Perché appunto, grazie alla sua utilità, può essere messo un po' dappertutto Non disegnerei appunto l'acquisto di Borini E posito separato di Gustavo Gomez Ragazzi, a questo punto mi tengo a Wallace, Gustavo Gomez che ci faccio, sinceramente A meno che poi non esploda, ma la vedo difficile E poi Wesley, anche lì, si dovrebbe chiudere, anche lui, lui vuole venire alla Lazio Ha rifiutato tutte le destinazioni, speriamo ragazzi, perché un giocatore a cui punto molto Wesley dal Club Rouge Poi, allora ragazzi, Cristiano Ronaldo alla Juve Io ho fatto due video, qualche giorno fa, in cui vi spiegavo alcune cose E ho avuto ragione, perché comunque vi avevo detto, non è un passo Infatti, sono passati già due giorni, ancora la trattativa ovviamente C'era gente già che vi diceva, è fatta, è fatta, calma Calma ragazzi, potrebbe anche passare una settimana ancora Adesso in queste ore sembra vicino Probabilmente si farà, ve lo dico Però ragazzi, calma, perché comunque c'è ancora di mezzo Real Madrid Non c'è, come tanti vi hanno dato la clausola da 100 milioni Quindi si devono anche mettere un attimo d'accordo Però vi dico che ho una sensazione che comunque Cristiano Ronaldo alla Juve Probabilmente si farà Ma, notizie di poche ore fa che non sapevo Angel Di Maria probabilmente Sto probabilmente ce lo metto dappertutto oggi Andrà al Napoli Ragazzi, Angel Di Maria al Napoli Un colpo a effetto Che, vi dico la verità, Angel Di Maria non è un giocatore che amo particolarmente Perché nella sua carriera ha dimostrato molta discontinuità Però ragazzi è un gran colpo Ha 30 anni A 30 anni percepisce 7 milioni di euro all'anno Al Paris Saint Germain Quindi l'ingaggio sarà un po', secondo me Limato, un po' meno E, ripeto, non è un giocatore come Ronaldo che ti cambia veramente la squadra Però, cazzo, è un colpo che comunque una squadra come il Napoli Con Ancelotti ha bisogno di colpi così per puntare Possibilmente allo scudetto Possibilmente andare almeno agli ottavi, ai quarti di Champions League E, quindi, dopo l'acquisto di Verdi, di Fabian Ruiz Adesso non mi ricordo cosa si chiama Sì, Fabian Ruiz E, poi, i portieri Carnesi, Smeret E, Di Maria Che, anche, ripeto, non è ancora ufficiale Ma probabilmente si farà Cazzo Inizia la squadra a formarsi già Abbastanza Vendranno a Giorgini Poi al centrocampo dovrà intervenire Però il Napoli, diciamo che Si sta muovendo discretamente E, poi, ho sentito parlare Qua, però, vi dico la verità Non sono molto informato Di Zazzal Milan Sembra l'accordo trovato Anche lì Kalin c'ha l'Atletico Anche Gelson Martins Che era un obiettivo della Lazio Mi sa che va all'Atletico Boh Raga Zazzal a me piace C'è la Lazio Io l'avrei preso subito E, però Boh Sinceramente È un giocatore un po' così Non è un bomber da 30 gol Lo sappiamo E, è un giocatore che, boh In un Milan ti fa quei 15 gol se va bene Boh Non lo so Non lo vedo un acquisto molto È un buon acquisto Ma la squadra rimane sempre Allo stesso livello Secondo me E, però Dai, comunque Zazzal ci sta È un acquisto Comunque il Milan doveva fare Un attaccante così E, boh Ragazzi Seguitemi su Instagram Link lo trovate qui sotto Mi raccomando Se volete video così di calciomercato In cui non parlo Magari solo della Lazio E, ecco Aggiungo anche Falcinelli Al Bologna Ottimo acquisto Ottimo acquisto E, tanti like Così io vedo che vi piacciono E li porto in cui parlo della Lazio Parlo un po' di Ronaldo Appunto se la trattativa è ancora in corso E parlo un po' in generale Di tutte le squadre Bella ragazzi Ah Devo salutare qualcuno Forse Devo salutare Sì Adamo Fanti Nunzio Sarra E Fili09 Bella